Sono ancora visibilmente scossi i titolari del supermercato Maxi Sidis di via Sant'Anna a Vernole. All'indomani dell'attentato intimidatorio avvenuto ieri sera intorno alle 20 che ha provocato seri danni alla struttura ma soprattutto ha seminato tanto terrore tra i presenti. L'ordigno rudimentale è stato piazzato all'esterno del supermercato nei pressi del perimetro laterale proprio sotto ad una porta secondaria. L'esplosione è stata molto forte ed è stata sentita anche dai residenti delle abitazioni vicine che sono scese in strada. La vetrata del supermercato è andata in frantumi mentre la sala cinesca si è accartocciata su se stessa. Fortunatamente non ci sono stati feriti anche se i bulloni di ferro con cui era stata confezionata la bomba avrebbero potuto colpire gravemente le persone che si trovavano nel locale. A quell'ora nel supermercato erano presenti solo due clienti oltre il titolare Fernando Pascali, la moglie e alcuni dipendenti impegnati nelle operazioni di chiusura. Sul posto ci sono recati i carabinieri della stazione di Vernole e colleghi del Norm di Lecce che hanno effettuato un accurato sopralluogo per accertare la dinamica dell'attentato. Presente anche un artificere. Frammenti dell'ordigno imballato in maniera rudimentale sono stati recuperati e ora verranno analizzati in laboratorio. Gli investigatori stanno anche visionando le immagini delle telecamere per cercare di risalire agli autori del gesto. Pare che l'ordigno sia stato lanciato da un'auto in corsa che ha poi fatto perdere rapidamente le proprie tracce. Nel novembre del 2013 lo stesso supermercato subì un altro attentato. In quell'occasione furono esplosi sette colpi di pistola da due malviventi a bordo di una moto.